allora benvenuto benvenuti a tutti io sono Francesca Savoia sono un quarto del Dipartimento di Italiano del programma di italiano qui all'Università di Pittsburgh sono molto contenta di essere stata invitata a fare da moderatrice a questa conversazione sulle elezioni recenti elezioni in Italia come sapete questa conversazione di oggi in italiano è parte di una serie di conversazioni sull'Europa organizzate dall'European Studies Center dell'Università di Pittsburgh ma anche sostenuto dallo stesso centro, l'European Studies Center della University of Illinois in Urbana-Champaign che è collegata con noi e anche dalla Florida International University di Miami pure collegata con noi adesso io vi presenterò i nostri partecipanti Francesca Arania è qui con noi di persona ma anche gli altri sono stati Fulbright Distinguished Lecturer all'Università di Pittsburgh prima di presentarveli vorrei brevissimamente ricordarvi che cosa è successo e che cosa ancora non è successo così molto sommariamente i partiti del centro-sinistra hanno praticamente perso cioè hanno perso molti seggi hanno preso pochissimi voti ma né il centro-destra né il Movimento 5 Stelle possono governare da soli non hanno la maggioranza assoluta devono appoggiarsi o a destra o a sinistra vedremo al momento il Presidente della Repubblica Mattarella a cui spetta di nominare il Premier di nominare il Presidente del Consiglio è in consultazione mi pare prevalentemente con due persone cioè Di Maio del Movimento 5 Stelle e Sardini della Lega questi sono i due partiti che hanno avuto più voti mi pare che abbiano nominato il Presidente della Camera e del Senato ma tutto questo è quello che è successo dopo le elezioni quindi non abbiamo ancora un governo adesso vi presento i nostri commentatori Aide Esu è professore associato di sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali delle istituzioni dell'Università di Cagliari è stata qui con noi a Pittsburgh nella primavera del 2014 e si occupa e ha trattato nelle sue pubblicazioni di problemi risultanti dalla guerra, dalla violenza politica si è occupata anche del conflitto fra Israele e Palestina scrive sulla costruzione sociale della paura, sulle migrazioni Francesca Lagno che è qui con noi purtroppo ha una forte laringite è professore aggregato di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona si occupa di diritto internazionale, privato soprattutto cioè della giurisdizione, circolazione di decisioni in materia civile, matrimoniale, familiare nell'Unione Europea Marco Cuculelli che ci ha raggiunto, anche lui ha insegnato qui a Pitt nell'autunno del 2016 è professore ordinario di economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Politecnica delle Marche che si trova a Dancona si occupa principalmente di crescita aziendale per esempio degli effetti dell'introduzione di nuovi prodotti l'effetto che questo può avere su questa crescita breve o lungo termine e Raffaella Patimo che si trova al momento a Praga è ricercatrice confermata in economia politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici dell'Università di Bari ha recentemente pubblicato un saggio interventi nazionali sui temi della migrazione quindi chiudiamo il circolo ritorniamo anche a soggetti di cui si occupa Aide comunque si occupa, Raffaella si occupa del costo della violenza all'interno delle sue ricerche sul mercato del lavoro della partecipazione femminile al lavoro questi sono un po' i temi, le sue aree di interesse ho chiesto loro di magari cominciare con qualche commento su quello che pensano che i risultati di queste lezioni possano gli effetti che pensano che i risultati di queste lezioni possano avere nei canti in cui lavorano come scholars, come insegnanti, come ricercatori cominciamo da Aide visto che sei stata la prima di essere presentata vuoi fare le tue speculazioni a questo punto perché è chiaro non abbiamo un governo non abbiamo un governo diciamo potenzialmente dal dibattito di questi giorni dalle schermaglie e dai giochi a scacchi tra le varie coalizioni sembrerebbe davvero il condizionale assolutamente dobbico in questa circostanza profilarsi l'ipotesi di un governo Salvini e Cinque Stelle con tutti i sei e tutti i ma che questo comporta perché le politiche sono molto diverse l'una e l'altra e con tutte le incertezze che ovviamente questo comporta perché non riguarda semplicemente i contenuti ma riguarda io direi che già comincia a vedersi in questi giorni un cambiamento semantico dei contenuti dei loro temi forti di campagna elettorale già Salvini che ha giocato il ruolo di io ho vinto le elezioni il premierato aspetta a me però gli ha dichiarato vediamo non è così determinante che lo sia io e così Cinque Stelle in relazione a quello che era il loro punto fermo della campagna cioè il reddito di cittadinanza stanno un po' mitigando ed uncorando questo aspetto quindi è difficile in questa circostanza prevedere quella che sarà poi la Realpolitik di chi andrà a formare il governo in quanto sono i discorsi che vengono fatti in campagna elettorale che sono sempre molto accesi e che servono a spostare l'elettorato in una direzione piuttosto che un'altra penso al linguaggio utilizzato in relazione all'immigrazione da parte sia di Salvini e questa sorta di grande ambiguità che Cinque Stelle in realtà ha mostrato in relazione alla questione immigrazioni quest'estate c'è stata una grande campagna contro le ONG che salvavano gli emigranti in mare accusandole di essere portatrici di interessi particolari anche i giorni scorsi la nave spagnola è stata fermata dalla procura di Catania inizialmente si è parlato di un reato nuovo che è il reato di solidarietà fa caponare la pelle soltanto pensare che si possa ipotizzare un reato di solidarietà però questo la dice lunga su tutta la costruzione della minaccia che gli emigranti rappresentano in virtù direi soprattutto di un problema di competizione di politiche di welfare pressoché inesistenti perché come sapete il crescente numero i colleghi economisti lo sapete soprattutto è molto meglio di me questo discorso la crescita delle famiglie in condizioni di povertà sia assoluta che relativa in assenza totale di una politica di lotta alla povertà da parte del governo uscente ha fatto sì che il pericolo migrazione venga vissuto in maniera ancora più drammatico soprattutto nelle grandi periferie che hanno costituito il bacino elettorale per eccellenza soprattutto per quanto riguarda l'area del centro-destra e della destra estrema quindi questo è un problema molto rilevante di cui si dovrà tenere conto perché io non credo che si andrà a una radicalizzazione di questo problema perché sarebbe molto grave e probabilmente l'Unione Europea in questo può giocare un volo di mitigazione nel senso che durante la campagna elettorale Macron ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso quindi è auspicabile effettivamente che l'Europa si impegni maggiormente in relazione alla politica trasfrontaliera al mare aperto che sono le coste italiane e la frontiera completamente aperta e quindi l'arrivo massivo da parte dell'arrivo massivo di migranti questo quindi sarà secondo me uno dei temi centrali del futuro governo qualunque esso sia benissimo grazie Aide Francesca ti senti? mi sento mi scuso veramente faccio molta fatica a parlare in realtà non mi distrazzo nemmeno troppo perché non saprei cosa dire nel senso che è completamente improtecabile la situazione nel senso che anche alla luce di quelle che sono state le modifiche di posizioni durante la campagna elettorale sia del 5-6 che della Lega rispetto all'Europa perché siamo partiti da una posizione di ritorno ante Maastricht fuori dall'euro invece una rinegozione dei trattati cioè toni completamente diversi io onestamente non so davvero per vedere cosa succederà e quale sarà la posizione che manterranno poi a livello di politica estera e non so nemmeno il mio auspicio è quello che si possa avere in qualche modo la possibilità di avere come rappresentante dell'Italia qualcuno che è già minimamente organico al sistema europeo perché il problema è che diciamo rappresentare l'Italia partendo dalla posizione di populismo estremo non dimentichiamo che Salvini è il gruppo della Le Pen al Parlamento Europeo diventa a mio modo di vedere pericoloso per portare avanti istanze che sono legittime e sono quelle in primo luogo come stavamo dicendo di una rinegozione del sistema divino che non è concepibile il paese di prima accoglienza debba essere quello che ha il carico di gestire tutte le richieste d'asilo ma questo è un discorso che era già stato portato avanti dal nostro governo e c'era stato assolutamente una disponibilità da parte delle istituzioni da parte della Commissione è davvero che c'è anche una proposta normativa in questo senso il problema è che quando si hanno delle posizioni diciamo in partenza molto aggressive è difficile a livello della negoziazione riuscire ad essere molto efficaci quindi l'ausficio è che comunque al di là di quella che sarà poi in qualche modo l'individuazione dell'obiettivo di politica anche europea che si vuole promuovere ci sia la capacità di capire che i toni vanno comunque svolzati perché non è possibile pensare di andare in Europa a battere i toni come si abbiano un certo di fare in campagna elettorale perché se abbiamo una posizione economica naturalmente non possiamo permetterci una peggio di questo tipo e poi è inutile parlare di rinegoziazione dei trattati quando i trattati si rinegoziano a condizione di un'abilità quindi bisogna anche smorzare i toni io credo che il compito principale del nuovo governo sia quello capire che la campagna elettorale è finita e ora si tratta di diventare interlocutori affidabili e seri e responsabili mi sembra in questo senso che 5 Stelle lasciano un pino più intravedere qualche margine di come dire stemperamento maggiore rispetto alla Lega perché da come si sta movendo il maio da come si è mosso anche il rispetto agli investitori stranieri mi sembra che lui abbia una posizione diciamo un pochino più da politico navigato e quindi riesca anche a capire che i toni hanno certamente un impatto anche su quello che poi si riesce a portare a casa quindi questo è il mio intervento per quanto riguarda i miei temi di ricerca diciamo ormai nella mia materia l'Europa è un processo inarrestabile c'è una competenza luciferativa esclusiva da parte dell'Unione quindi non c'è possibilità di intervenire ma sono poi peraltro i profili che non hanno un grandissimo rilievo dal punto di vista dell'opinione pubblica perché mi occupo di materia civile commerciale familiare mentre i grossi temi sono quelli certamente di migrazione e di economica e su quello vediamo appunto come ci rappresenteranno bene passiamo a Marco Marco hai oh l'abbiamo perduto va bene allora pronto? io non mi sento più pronto? sento Marco ma non sento più nessuno sì io sento io sento però non riconosco di chi è la voce che mi arriva che mi sente Marco io sono Raffaella sento te ma non sento più nessuno nemmeno io ne sento ne vedo ci sentite adesso? adesso io sento lì voi sì benissimo sì 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 benissimo non abbiamo Marco in video ma abbiamo Raffaella allora intanto che aggiustano il tuo video Marco faccio parlare Raffaella ah va bene adesso prego vedere lo schermo del computer di qualcuno io invece che vedere voi ma va bene uguale voi mi vedete sì 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 ti vediamo e ti sentiamo bene io non ti vedo più per cui se mi volete fermare avvisatemi con con la voce a voce sì adesso vedo ancora uno schermo comunque cosa dire che diciamo forse già presagendo il risultato delle elezioni e la confusione e il caos che sarebbe venuto fuori io ho programmato da tempo questo visiting a Praga nella Repubblica cieca per cui il 17 marzo sono venuta qui e questo lo dico a parte diciamo in tono scherzoso per dire che sto seguendo ovviamente via notizie internet quindi stampa via internet elettronica ovviamente continuando a seguire la situazione per quello che si riesce a seguire quindi un po' partendo sia da quello che ha detto Aide che quello che ha detto Francesca io concentrerei l'attenzione su quello che è stato detto perché è stato detto tutto il contrario di tutto durante la campagna elettorale dalle stesse persone con alcuni che fossero organismi di stampa o dei media che si sono divertiti un po' a mettere a confronto quello che era stato detto la settimana prima con quello che era stato detto la settimana dopo assolutamente in contrasto però diciamo a questo siamo abituati un po' la campagna elettorale le passate campagne elettorali ci hanno anche abituato a questo ma soprattutto per quello che mi riguarda la mia attenzione così da deformazione da ricerca mia personale e sulle elegantemente fake news sui falsi miti che sono stati pubblicizzati durante la campagna elettorale tipo rimetteremo i lati tipo rinegozieremo i passati come ha detto Francesca quindi instillando questa sorta di aggressività per esempio nei confronti di tutto ciò che riguarda anche le politiche europee senza che magari gli stessi esponenti gli stessi candidati avessero bene in mente le competenze che in quanto futuri primi ministri italiani avrebbero potuto avere i dazzi noi non li decidiamo più dal 1968 forse qualcuno dovrebbe andare a dirglielo ok come diceva Francesca i trattati non si rinegoziano così al Quirinale no al Quirinale Palazzo Chigi bisogna un grandissimo analfabetismo per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'Europa ed è credo non credo che sia una nostra esclusiva ahimè credo che sia un diciamo un qualche cosa che una radice comune probabilmente adesso Aido mi scuterà se diciamo interferisco un po' ma una radice comune per la nascita di questi populismi perché la mancanza di informazione e l'ignoranza su determinate tematiche da parte anche di chi poi quotidianamente deve gestire e ha la governance di questi grandi temi fa sì che vengano alimentate delle delle castronerie tremende nell'opinione pubblica tipo cosa fare con i migranti quanto ci sono necessari i migranti o quanto non ci sono necessari ammesso che si possa parlare di necessità sulla migrazione che ha motivazioni economiche perché la migrazione che ha motivazioni umanitarie io quello diciamo non ci provo neanche ad esprimermi siamo stati migranti anche noi un secolo fa anche meno Pittsburgh ci ha insegnato parecchio anche sulle ondate di migrazioni della metà del secolo scorso quindi anche su questo vengono a rubarci lavoro le ricerche economiche democratiche sono piene di dimostrazioni del fatto che i migranti non sono sostituti al lavoro domestico al lavoro nazionale sono esattamente complementari come succede in parecchie parti del mondo ad economia avanzata quindi c'è diciamo il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno saputo cogliere come vuol dirsi così usiamo espressioni in italiano che magari piacciono ha parlato alla pancia del paese questa è un'espressione che va molto perché ha dato falsa informazione riguardo ad aspetti fondamentali economici sociali e anche demografici ed è andato a pescare tra quelli che avevano da tempo lasciato una partecipazione politica attiva alla vita nazionale non ci sono davvero più le discussioni politiche di una volta né di destra né di sinistra e chiudo con una riflessione sull'esperienza personale diciamo del exit poll al contrario quelli fatti da me tra i miei conoscenti i miei amici c'è gente che ha votato 5 stelle senza neanche non perché voglio dire ci sia un motivo per votare o non votare aver votato aver votato 5 stelle da parte di chi aveva sempre votato a destra e di chi aveva sempre votato a sinistra senza assolutamente avere un'idea di quale fossero le motivazioni il programma politico dei 5 stelle ma semplicemente per dire non ci sto più col sistema qualunque cosa accada si entrerà nel caos ma ben venga perché è una situazione di stallo da cui si uscirà poi se questo sarà diciamo questo sarà quello che ci aspetta non abbiamo la sfera di cristallo ancora grazie grazie raffaella marco ci sono la parola sentite si si ci sei li vedete pure allora due battute velocissime sono un paio di battute velocissime in realtà io ho un punto di vista leggermente diverso da quello dei colleghi delle colleghe che mi hanno preceduto perché perché se se noi volessimo leggere il clima di difficoltà del paese ad esempio attraverso un indicatore economico un barometro economico che è la borsa se guardiamo quello che ha fatto la borsa italiana o che hanno fatto le borse europee a ridosso e nel periodo di pre e post elettorale in realtà non osserviamo nessuna variazione un bighiero direi una frazione di quello che sta accadendo adesso con l'affare facebook se vogliamo fare un paragone che è vicino a tutti che significa questo che questa situazione di apparente incertezza che noi leggiamo sui giornali e che pensiamo possa durare a lungo e possa influenzare molto la dinamica economica e sociale del nostro paese cioè il fatto che ci sia stata una grande battaglia prima delle elezioni per promuovere forme di schieramento politico molto distanti dal tradizionale o quello che vediamo oggi il fatto che i primi due partiti o se volete partiti aggregazioni se vogliamo cioè cinque stede da una parte come unico partito e Salvini quindi la Lega come partito più importante della coalizione di centrodestra in realtà in realtà non generano l'incertezza che sembrano poter generare potenzialmente generare perché tutto è molto più tranquillo di quello che apparentemente ci potremmo aspettare questo non lo dice soltanto un indicatore grossolano se vogliamo della dinamica dei mercati finanziari che sono sempre un indicatore importante ma anche in economia reale se guardiamo quello che ha fatto l'economia reale del nostro paese l'Italia negli ultimi se vogliamo sei mesi o negli ultimi due semestri l'ultimo anno in presenza di assolute turbulenze dal punto di vista politico in effetti ha ripreso un sentiero di crescita totalmente staccato e scollegato con quella che era la dinamica politica sottostante questo perché ormai abbiamo l'analisi economica ci dice da tempo che i quattro quinti in genere della crescita dei paesi che sono nell'area euro dipende dall'Europa e non dipende da quello che il singolo paese fa quattro quinti significa che l'ottanta per cento del percorso di crescita di qualsiasi paese Germania compresa per la quale questo rapporto forse pesa appena un po' di meno ma marginalmente di meno non totalmente di meno è fortemente influenzata da quella che è una dinamica esterna ora questo come dire inquadrare e inserire in questo framework i risultati dell'elezione italiana ci fanno in qualche modo non voglio dire tirare un sospiro di sollievo ma sicuramente ridimensionare un po' quella che è questa grande veste o questa grande area di incertezza che noi siamo soliti attribuire a queste elezioni io da questo punto di vista sono un po' più ottimista non perché penso che i partiti che probabilmente dovranno governare questo paese nei prossimi cinque anni saranno in grado di mettere in piedi realmente delle operazioni significative ma perché molto del lavoro sporco per loro sarà fatto dalla driver dell'Unione Europea e dalla congiuntura internazionale alla quale le nostre imprese sono in grado di agganciarsi questo è quello che in qualche modo mi fa dare preponderanza alla lettura economica del fenomeno politico che stiamo discutendo questo paese è un paese che voi lo conoscete ricchissimo di piccole e medie imprese soprattutto di medie imprese che oggi snobbano quasi tranquillamente la politica perché hanno capito che la loro sopravvivenza la loro crescita è assolutamente non vorrei dire slegata ma assolutamente non legata pochissimo legata quella che è la dinamica politica insomma la deriva politica sia essa di sinistra o di destra i due partiti ai quali abbiamo fatto scendo prima in realtà sono andati su filoni molto particolari per sostenere la crescita economica hanno strizzato l'occhio mi verrebbe da dire ma forse di più hanno chiamato a forte voce fette consistenti del sistema economico insomma hanno parlato apertamente alle imprese di piccola e di media dimensione proponendo loro i due ambiti che fanno sempre come dire mercato quando si parla con le imprese cioè svalutazioni e quindi torniamo all'euro abbandoniamo quello che è il vero driver di sviluppo del nostro paese abbandoniamo l'Europa così come la chiamiamo vestita di euro e riduciamo e riduciamo le tassi quindi da entrambi gli schieramenti Salvini con la flat tax al 15% ma anche il 5 stelle insomma con una forte azione sul cuneo fiscale sull'abbattimento della tassazione eliminazione degli studi di settore che significa vita e sopravvivenza per la piccola e per la microimpresa addirittura eliminazione di equitalia che significa appunto dare ridare spazio a un settore che è il settore più subito insomma l'atteggiamento coercitivo e di pressione per non usare il termine oppressione dei precedenti governi queste sono azioni che in qualche modo possono aiutare secondo me possono dare una mano non credo che siano totalmente deliberate da questi partiti ma credo che possano nella sostanza nella buona sostanza dare una mano al nostro sistema assistente produttivo quello che manca realmente in aggiunta se vogliamo alla cozzaia di provvedimenti che questi due chiaramente hanno messo in piedi in maniera molto raffazzonata senza una logica di fondo insomma spesso più richiamando nomi e sigle piuttosto che reali azioni strategiche quello che realmente manca è una cosa buona che il governo precedente aveva fatto grazie al lavoro di calenda che voi ricordate il ministro dello sviluppo economico che aveva messo questo paese in questo filone grosso della digitalizzazione dei sistemi produttivi insomma l'industria 4.0 che non è un fenomeno italiano ma è un fenomeno insomma che parte dagli Stati Uniti ripreso dalla Germania e stesso dai tedeschi in realtà in tutta Europa era forse l'ambito sul quale noi ci eravamo mossi in maniera un po' più un po' più vivaci noi abbiamo una fortissima base manifatturiera la seconda base manifatturiera europea è tra le prime al mondo insomma il nostro paese può vantarsi di questo di questo di questo di questo climato ahimè purtroppo io non sono riuscito a trovare nei programmi dei due dei due governi che dei due scusatemi dei due partiti che probabilmente avranno la leadership politica di questo paese nei prossimi mesi nessun riferimento a questo tema se non blandi e generici riferimenti di facciata a quelle che possono essere le tecnologie che stanno dietro questa storia quindi insomma da un lato sono ottimista e chiudo con questo perché credo che molto del lavoro lo faranno non le persone che guideranno il paese ma questa è una regola economica alla quale ahimè o per fortuna dobbiamo tutti quanti sottostare siamo grandi a sufficienza per accettarlo d'altro canto insomma sono un po' preoccupato perché ho visto molta poca chiarezza nella costruzione dei programmi economici dei due partiti candidati e qui mi fermerei benissimo grazie ai nostri commentatori io aprirei adesso la discussione invitando anche i ragazzi gli studenti che sono alla University of Illinois o alla Florida International University a partecipare e farci un cenno se c'è qualcuno che vuole parlare in modo che possiamo attivare l'audio per voi avete domande o partiamo noi come no? Illinois non rispondono va bene allora cominciamo noi la conversazione c'è qualcuno qui che vuole fare una prima domanda generale a tutti quattro i nostri partecipanti o marcata ad uno si Matteo rompe il ghiaccio ok bello no ho letto un sacco di cose sulle elezioni e ho visto tante persone che parlano di una coalizione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega però vi chiedo come potrebbe essere possibile fare questa coalizione e soprattutto se avete idee di chi sarà nominato il premier uno di voi vuole rispondere Raffaella io suggerivo Aide perché la domanda direttamente ad Aide sicuramente lei lo sa mi organizzo con la mia sfera di vetro e mi racconto che cosa c'è dentro l'asfera credo che questa sia una domanda che ci poniamo tutti e credo che non lo so nei prossimi giorni avremo delle grosse spese il 3 aprile il Presidente della Repubblica incontrerà i rappresentanti delegati dei partiti per un primo incontro e sulla base di questo attribuirà l'incarico di formazione del governo a una coalizione o ad un'altra sulla base anche degli elementi di valutazione che lui avrà in quella sede in questi giorni si continuano a ripetere delle possibili e dei potenziali scenari di fatto delle situazioni di apertura ieri sembrava che ci fosse una situazione di apertura di un potenziale accordo tra 5 Stelle e la Lega in realtà una parte radicale della 5 Stelle stamattina ha dichiarato mai con la Lega quindi sono anche processi interni ai partiti o raggruppamenti politici di cui è assolutamente molto molto difficile riuscire a identificare vie o potenziali strategie se devo fare una valutazione rispetto a quello che si è visto tra venerdì e sabato mattina per elezione del presidente del senato e del presidente della camera su alcune cose si è vista di nuovo la vecchia politica che è la politica degli accordi tra partiti non tra partiti tra raggruppamenti elettistici dei partiti e che per salvare diciamo sostanzialmente una coalizione si è riproposto come presidente del senato che ricordo è la seconda carica dello Stato e che in caso di malattia o di impedimenti da parte del presidente della Repubblica diventa il presidente della Repubblica abbiamo visto eletta una donna che ha manifestato davanti al tribunale di Milano invocando parlando di colpo di Stato semplicemente perché un magistrato ha portato alla sbarra Silvio Berlusconi per il processo su Rubi quindi questo ci dà un po' la misura della vecchia politica che è tornata nonostante durante la campagna elettorale si sia parlato a lungo di rinnovamento soprattutto da parte dei 5 Stelle e quindi l'aver raggiunto l'accordo sull'elezione di un profilo politico così compromesso mi fa pensare che anche i gruppi che parlano di innovazione in realtà pur di mantenere una posizione determinante nella formazione del governo assumeranno delle prassi politiche vecchie questo non è affatto incoraggiante posso aggiungere prego prego Marco sì sono totalmente d'accordo con quello che dice la collega ovviamente se posso aggiungere su questo semplicemente per ricordarci quello che è successo quando Renzi quindi parliamo di 5 anni fa andò al governo e da rottamatore e il primo atto in realtà formale che fece fu incontrare Berlusconi la persona della quale aveva parlato male fino a 5 minuti prima e con lui fece il parto del Nazareno insomma che poi ebbe sorti alterne ma è un segnale chiaro di come poi le cose si ricompattino subito immediatamente dopo finita la campagna elettorale in tutti i paesi forse in Italia più che in altri paesi su questo tema io volevo intervenire brevissimamente magari per ispirare anche gli altri a fare ulteriori domande Raffaella ha parlato da una parte di come dire analfabetismo politico persone che sono impreparate che non parlano di problemi concreti anche Marco se c'è incertezza è su che tipo di politica economica faranno sono aggiornati su che cosa sta effettivamente succedendo nel paese e dall'altro questi partiti che sembrano nuovi in superficie ma che hanno radici profondissime lo sappiamo tutti l'unico è forse appunto il movimento 5 stelle che ha cominciato a emergere nel 2005 poi si è formato come partito qualche anno la 9 quello che è stato è uno dei pochi ma tutti gli altri la lega che adesso non si fa più chiamare nord e si è presentata per la prima volta su tutto il territorio italiano questo per me crea molte così ulteriore confusione ecco volevo chiedervi se qualcuno vuole intervenire su questo se il mio senso visto che sono negli Stati Uniti ormai da 35 anni quindi è possibile che questa mia confusione sia dovuta ad altro che non a quello che ho detto Francesca se ti può consolare anche mi sentite sì credo che la confusione sia non solo da parte diciamo di chi si candida a governare nella nella progettazione come diceva anche Marco molto miope di quale possa essere un serio programma di governo poi magari la congiuntura economica farà il suo corso e verranno addebitate o accreditate meglio delle capacità diciamo magiche a una coalizione di governo a un governo semplicemente perché era il momento giusto diciamo siamo in ripresa non solo noi siamo in faticosa ripresa quindi cavalcare l'onda di questa congiuntura economica favorevole aiuterà ma la confusione resterà quella confusione di cui parlavi tu ed è come se i due grandi interlocutori cioè degli agenti che hanno il mandato da parte della cittadinanza a governare siano confusi tanto e forse di più forse meno anche dei cittadini che poi danno mandato a governare non esiste l'ho detto prima lo ripeto non esiste una vera partecipazione attiva forse anche quello a parte l'analfabetismo che ha a che fare con la vita e la partecipazione politica che investe un po' tutto dalle amministrazioni locali fino a non capire l'anno prossimo voteremo per le elezioni europee e l'anno prossimo vero e io continuo a vedere a capire di essere circondata da giovani e meno giovani che non hanno assolutamente idea di quale sia il mandato che danno ogni volta che votano i loro rappresentanti al Parlamento europeo che da un da un certo punto di vista è più comprensibile no? perché l'Europa la vediamo sempre Bruxelles e il capo espiatorio però diciamo demandare così alla confusione imperante anche il proprio destino quello dei propri figli senza una deadline senza una scadenza mi sembra davvero fuori da ogni immaginazione per rispondere a Matteo non so però magari i colleghi che sono in Italia forse sono più aggiornati ma si è parlato la settimana scorsa anche di un governo di scopo funzionale alla modifica del sistema elettorale questa è una prospettiva attualmente che si discute tra Lega e 5 Stelle cioè l'idea di fare un governo funzionale appunto a modificare la legge elettorale per poter fare in modo di avere più consenso e avere naturalmente una maggioranza tale da consentire al vincitore di governare senza appunto accordi che in qualche modo sbaturano la loro stessa identità è questo uno scenario di cui si discute attualmente? Non in questi giorni non in questi giorni mi pare che proprio si sia tornato giusto Marco non si è parlato di questo in questi giorni? No, no, no non mi pare se ne ha parlato ma come dire anche in questo caso il fatto che noi abbiamo questa legge elettorale oggi non è casuale questa è stata una legge elettorale che il centro-sinistra ha caldeggiato lungamente da due anni a questa parte sapendo che non avrebbe avuto le maggioranze necessarie in questa elezione quindi questa è un'operazione insomma che ha una lunga gestazione non è casuale e io temo che per quanto siano Salvini e Di Maio le due forze che sono oggi le più forti in Parlamento in realtà credo che non abbiano né la forza né forse nemmeno l'interesse a rimettere in discussione addirittura la legge elettorale per fare quindi il governo di scopo per fare una legge elettorale non è bene chiaro quale si possa essere l'obiettivo di questo di questa dinamica io non credo che sia che sia praticabile insomma l'idea del governo di scopo io vorrei aggiungere una considerazione sulla questione delle leggi elettorali allora in Italia si parla di riforme elettorali ormai da vent'anni ecco l'affermazione della prima repubblica che è cominciata col passaggio dal sistema proporzionale al sistema maggioritario e da quel momento è cominciata una discussione senza fine perché ogni coalizione governativa cerca di pensare a quella che è la miglior legge elettorale in funzione della ricerca della propria maggioranza allora in realtà la questione della legge elettorale nasconde un problema politico grande è veramente l'elefante nella stanza che nessuno vuole vedere e che è il problema della crisi della politica è la crisi dei contenuti è una crisi di leadership una crisi di strategia una crisi di visione politica e quindi la legge elettorale diventa ogni volta questa specie di prosciutto negli occhi che ci mettiamo perché pensiamo che tutto dipenda dal fatto che non si è potuta costituire una maggioranza salda in realtà poi si trovano gli accordi perché io ricordo ancora gli incontri streaming di di Bersani con i 5 Stelle in cui si dicevano con i 5 Stelle noi non discuteremo mai ok e quindi in virtù del fatto che il mandato che aveva ricevuto Bersani era una non vittoria come l'aveva definita no? quindi anche dire scusate finalmente questa volta il PD ha avuto il coraggio di dire abbiamo perso vabbè la sconfitta era così plateale che è impossibile non dirlo stavolta ma era assurdo la volta scorsa che usare questa definizione della non vittoria giusto per non riconoscere che si era persa si erano perse le elezioni e che non c'erano i numeri in Parlamento per costituire una maggioranza di governo salda ok e quindi si è arrivati a questo compromesso a questo governo che alla fine era un governo di scopo nessuno l'ha mai chiamato un governo di scopo però tutti questi anni siamo stati amministrati da un governo che aveva anche visioni molto divergenti e la ragione per cui su alcune politiche noi siamo estremamente deboli non abbiamo avuto una politica di lotta alla povertà e venivamo richiamati costantemente dall'Unione Europea perché insieme alla Grecia siamo stati e ancora siamo un paese che non ha un piano straordinario di lotta alla povertà e questo poi si paga naturalmente perché l'elettorato si è spostato progressivamente verso il populismo perché il discorso che veniva colto maggiormente vuoi strumentalmente o non strumentalmente relativamente al discorso sul reddito di cittadinanza vuoi sulle parole chiave che vengono utilizzate dalla Lega e che fanno leva fondamentalmente su una autodifesa di un territorio che si sente minacciato da un mondo esterno che sia il migrante o che sia il meridionale che arriva al nord e che cerca di prendere di occupare un'occupazione che deve essere riservata alle persone o agli abitanti di quei territori quindi questo credo che sia un problema cruciale veramente il fatto che l'Italia sia profondamente in crisi in una crisi politica prego qualcuno qui prego buonasera lì a voi premessa io sono un visiting vengo dall'università di Roma 3 sto qui e non mi occupo di scienza politica mi occupo di storia dell'America Latina però sono qua insomma perché siamo per come in quanto cittadino diciamo abbastanza preoccupato devo dire che io sono personalmente terrorizzato purtroppo sono terrorizzato tra l'altro condivido le analisi fatte dalla professoressa e quel che dirò adesso non hanno una pretesa e scientifiche di certo sono semplicemente delle opinioni che butto lì diciamo non sono domande sono un po' di considerazioni che vorrei buttare vorrei mettere sul piatto io sono preoccupato personalmente non solo anche dall'analfabetismo dell'elettorato qualcuno definisce analfabetismo funzionale ma anche diciamo dalle stesse persone che sono state elette in questo momento e che fanno parte del Movimento 5 Stelle cioè io penso per esempio a quando dei deputati del Movimento 5 Stelle hanno fatto un esposto alla Procura di Roma contro il gruppo Bilderberg per esempio e ritenuto diciamo colpevole attraverso la cospirazione giudaico-massonica per la controlla del mondo di controllare oppure penso ai terrapiattisti penso che intanto si tratta di queste cose mi faccio anche una risata però poi quando si va ad argomenti più seri come i vaccini per esempio in cui gente tra l'altro la stessa Paola Taverna per esempio che è uno degli esponenti diciamo più in vista del Movimento 5 Stelle si dichiara assolutamente contro l'obbligo vaccinale in quel momento inizio veramente a preoccuparmi inizio a preoccuparmi quando vengono sdoganati dei movimenti apertamente neofascisti come Casa Pound a cui è data questa data estrema agibilità politica e nessuno né tra le schiere dei due partiti vincitori Salvini nemmeno lo sto a nominare perché facevano le manifestazioni insieme ma dall'altra parte nessuno nemmeno si è permesso di rivendicare la natura antifascista della nostra Repubblica lì per lì inizio ad avere delle forti forti preoccupazioni dall'altra parte io penso che questo voto purtroppo sia una fotografia della situazione del paese perché esattamente come la professoressa io penso che la questione per esempio la paura del del migrante che arriva sia effettivamente un riflesso di politica dal mio punto di vista scelerata da un punto di vista sociale cioè io parlo anziché guardo alla situazione concreta non solo delle periferie ma anche delle città abbiamo un'emergenza abitativa che è sproporzio veramente qualcosa di cioè secondo me indicibile è qualcosa di vergognoso delle politiche del lavoro che sono anche queste dal mio punto di vista vergognoso penso all'ultimo caso degli scontri dell'inistere della biblioteca nazionale su Roma c'è un'ondata di precarietà generale c'è un disagio sociale che viene costantemente ignorato che è stato completamente tagliato fuori dai programmi non può essere che mi sbagli che mi sia sfuggito dai programmi elettorali io tra l'altro mi occupo anche tipo di faccio parte di un'associazione politica su Roma che si occupa anche tra l'altro della questione dell'emigrazione dei rifugiati e andando a parlare con le persone per le manifestazioni che si organizzavano in piazza si proprio si si poteva toccare la tangibile questa situazione cioè nel senso anche lì si tornava sempre alla storia di 35 euro al giorno nel senso io non riesco a arrivare alla fine del mese a questi mi viene dato una 35 euro al giorno ignorando completamente anche la ricchezza che le politiche dell'accoglienza portano sul territorio nel senso molti miei amici per esempio hanno un lavoro perché lavorano in delle cooperative grazie quindi create grazie ai finanziamenti per l'accoglienza eccetera eccetera però dall'altra parte penso anche che in particolare la vittoria del Movimento 5 Stelle sia il risultato del totale scollamento che c'è tra la politica intesa in senso istituzionale del termine e la società civile nel senso che oramai c'è un abisso pressoché totale tra quella che purtroppo la politica è diventata di professione ma non purtroppo nel senso beberiano del termine bensì questi hanno preso solo secondo me la percezione che si ha io personalmente la condivido molto spesso c'è una di fatto si viene a creare un universo scusate un universo di compattimenti stagni nel senso che ormai la persona si piazza lì dentro e vive di politica ma non per la politica come si diceva quindi come diceva Weber insomma nel suo in una delle sue più celebri opere e quindi questo automaticamente porta a un rifiuto pressoché totale di quella che è l'istituzione politica istituzionalizzata quindi crea e quindi crea un voto di rigetto quindi proprio pur di non rivotare le stesse persone che ci hanno affamato che vedo completamente lì a mangiare eccetera eccetera voto un partito di antipolitica che d'altro canto dal mio punto di vista antipolitica non lo è affatto anche perché tanti dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno esperienze politiche pregresse tra l'altro sono della provincia di Brindisi c'era una una deputata recentemente eletta che praticamente viene dalle schiere della poliportone per esempio io dirò il poliportone e niente devo dire anche un'altra cosa ma con la spettacola vediamo se abbiamo delle reazioni a queste osservazioni posso dire io qualcosa si prego Marco no no Raffaella prego no no vai avanti tu vai avanti tu no io ho delle telegrafiche veramente condivido molti dei punti che sono stati alcuni dei punti che sono stati richiamati adesso però provo ad attenuare un pochettino anche la lettura di queste cose la prima è io sarei seriamente preoccupato del distacco tra la popolazione i cittadini e la politica se vedessi un tasso di partecipazione al voto del 30% se non ricordo male anche quest'anno bene o male siamo arrivati alla cifra precisa non la ricordo ma tra il 60 e il 70% che è assolutamente allineato con quello che accade in Francia in Germania è forse ancora meglio degli Stati Uniti quindi insomma se questa è la dinamica trasversale tra paesi tutto sommato come dire sì preoccupazione ma per tutti quindi mal comune non dico mezzo gaudio insomma però non parlerei con toni così esasperati di questo distacco della politica temo che questo sia più qualche cosa che insomma ad arte alcuni usano per far breccia su alcuni effetti della popolazione o parti della popolazione che sono sensibili a questo tema piuttosto che un reale effettivo problema secondo punto valutere grafico anche su questo se non ricordo male perdonatemi per la genericità insomma e per la inesattezza però qualche mese fa la Germania ha impiegato parecchie settimane a fare il governo no? 6 mesi noi vediamo del paese eh? 6 mesi parecchi mesi non volevo dire parecchi mesi ha impiegato parecchio tempo no? nonostante fosse se non ricordo se non vado errato il terzo mandato potenziale per la Merkel e quindi insomma una struttura la Germania che sicuramente va bene estremamente bene dal punto di vista economico molto bene dal punto di vista politico perché comunque un pezzo importante dell'Unione Europea beh questo insomma ci fa a ridimensionare un po' no? anche quelli che pensiamo essere problemi solo nostri italiani no? questo è un tratto comune del modo con il quale le democrazie funzionano e questo scollamento sul quale io sono molto d'accordo insomma però tendo a ridimensionare tra la componente pubblica dei cittadini che votano e la componente partitica credo che faccia molto parte del gioco insomma sia una parte importante che chiudo con questo dal punto con una lettura ottimistica io come dire vedo il fatto che ci sia un realmente nuovo partito cioè 5 stelle che sono da circa 10 anni in Parlamento da meno di 10 anni in Parlamento come l'unico fattore che può realmente aggiungere qualcosa a questa dinamica che è una dinamica assolutamente lasciata quella che è la politica alla quale non solo noi come Italia ma in generale tutto il mondo abituato quindi insomma da questo punto di vista mi sento di ridimensionare le preoccupazioni del collega di Roma ed essere un po' ottimista per il fatto che l'inserimento di nuovo legato ai 5 stelle può essere un fattore che tutto sommato contribuisce anche se non ne condividiamo gli ambiti ma contribuisce a dare alla politica una chiave di lettura innovata Raffaella vuoi aggiungere qualcosa? Allora molto brevemente mi riallaccio a quest'ultimo punto il punto sulla partecipazione politica e questo scollamento di cui parlava Marco perché in effetti potrebbe leggere diciamo il successo anche del Movimento 5 Stelle come un un draghettamento da vecchi sistemi vecchi partiti politici che non soddisfacevano più nessuno che avevano allontanato le persone dalla politica a un nuovo tipo di partecipazione però da questo punto di vista a me preoccupa la modalità oppure meglio la la pubblicità che il Movimento 5 Stelle fa della sua democrazia via internet perché se poi uno va a vedere i numeri con cui vengono fatte le cosiddette parlamentari o il numero di voti con cui il candidato premier è stato disegnato candidato premier rispettivamente 36.000 per 40 milioni di persone facciamo così per di 400 e allora fare un po' diciamo sarei un po' più attenta io personalmente a chiedermi come come cittadino è il tipo di democrazia verso cui vogliamo andare cioè la democrazia attraverso internet è questo io spero di no soprattutto se poi uno va a vedere l'utilizzo e la diffusione dell'utilizzo di internet nelle famiglie italiane di nuovo scusatemi se insisto ma l'analfabetismo digitale che c'è tra i cittadini allora se è questo il modo di fare politica da parte di un partito del partito che ha riscosso il maggior successo e ci vedo uno scollamento nel senso che c'è quel tipo di partecipazione via internet quindi molto limitato e però evidentemente a tutte le loro attività via internet via web e quel 33% di voti che hanno avuto evidentemente non ha partecipato quindi mi chiedo quale sia la vera natura cioè di agitare semplicemente le acque e di portare avanti per carità i vecchi partiti ci hanno abituato veramente al peggio quindi nessuno chiede il ritorno di qualcuno che non ha saputo governare che meglio ha governato negli ultimi vent'anni non ha fatto nulla poi magari si limita a riproporre obiettivi che erano stati diciamo messi nel programma anni fa io l'ultimo punto l'ultima osservazione che faccio è prendo questo schema che ho sui vari grossi ambiti dei programmi elettorali che Repubblica ha sintetizzato sono sul sito della Repubblica volevo in forma comparativa tra i vari partiti e le varie coalizioni adesso sempre riagganciandoci alla situazione del lavoro o delle grandi disuguaglianze economiche e sociali presenti in Italia posso dire che è della coalizione centrodestra ma potrebbe essere chiunque perché poi se andiamo a correre i programmi di tutti gli altri nel programma elettorale nella scheda riguardante il lavoro del centrodestra si trova occupazione giovanile attraverso stage lavoro e formazione che vuol dire tutto e niente perché è semplicemente la modalità con cui i giovani entrano nel mercato del lavoro attraverso stage il paese in cui i giovani entrano più tardi rispetto ai loro colleghi europei entrano praticamente gratis e non solo rispetto alle basse qualifiche che possono avere ma anche i nostri giovani più istruiti coloro che fanno i praticantati hanno delle retribuzioni veramente irrisorie e chi come noi che partecipiamo a questa conversazione così virtuale ha esaporato le realtà che esistono all'estero a partire dalla stessa realtà americana e sentire qual è il salario d'ingresso di un neolaureato è un chiarissimo incentivo alla migrazione dei cervelli quindi l'altro è incentivo al part time ma è un incentivo al part time per chi questo era credo 5 stelle partecipazione riduzione dell'orario di lavoro cioè è vero questi ho preso i grandi titoli del programma relativo al lavoro cioè di fondo una grande simprasia tra quello che è il tema dell'istruzione le competenze che vengono date a tutti i livelli scolastici fino all'università è quello che il mondo delle imprese chiede tra l'altro arranchiamo sempre di più perché i cambiamenti la velocità dei cambiamenti aumenta di sempre più diciamo sempre di più e c'è un lasso di tempo minimo standard che serve al sistema scolastico e alle università per educare istruire e dare competenze per un mondo del lavoro che non ha niente a che fare con il mondo dell'istruzione io tutto questo scusate ma non l'ho letto da nessuna parte ma vogliamo fare un po' di autocritica anche noi perché diciamo volendo fare anche un po' un'indagine sulle ragioni per cui ci troviamo in questa situazione di scollamento tra società civile e politica diciamo io vedo anche da parte di chi ha un percorso di successo poca disponibilità ad inserire contenuti dibattito politico e questo forse è una cosa che sicuramente danneggia il paese dall'altra parte vorrei dire che anche questo problema del lavoro noi forse dovremmo anche riconcepire un po' il sistema universitario io penso che abbiamo un'ottima formazione a livello scolastico però credo che la nostra università sia fortemente in Italia mi assumo che sono aspettati quello che dico sia fortemente autoreferenziale e il nostro obiettivo non sia veramente quello di formare e di rendere in qualche modo competitivi gli studenti una volta usciti ma sia probabilmente per perpetuare anche delle logiche di gestione del potere insomma accademico che ancora ci sono quindi io in questo senso sono curiosa di vedere i 5 Stelle perché questo è un punto su cui hanno premuto abbastanza questo rientro dei cervelli questa meritocrazia anche a livello che secondo me ha un effetto benefico anche in generale sulla società civile sono curiosa di vedere come potranno portarlo avanti perché io credo che questo sia anche un elemento problematico cioè al di là del fatto che non ci siano politiche del lavoro però pensiamo anche di riformare un pochino il nostro percorso universitario e anche la nostra modalità di insegnamento devo dire questo per chi di noi è stato full per cui è incredibile vedere il riscontro che c'è a lezione con gli studenti l'interazione sono tutti sistemi che da una parte in qualche modo gratificano il docente dall'altra secondo me costituiscono anche una grande risorsa per gli studenti che diventano più sicuri diventano più capaci di interagire io vedo che gli studenti italiani sono in qualche modo hanno sempre un atteggiamento molto passivo a livello di apprendimento e questo forse si ripercuota negativamente anche nella fase della ricerca del lavoro perché si è forse meno propositivo di quello che la società oggi ci chiede anche il fatto che ci si sposti io credo che la mobilità internazionale sia una ricchezza per tutti quindi anche spesso questa polemica sul fatto che i giovani in Italia magari dopo un corso di eccellenza siano costretti ad emigrare io devo dire la leggo in maniera un po' più critica perché credo che dovremmo veramente cogliere anche le opportunità che l'Europa soprattutto ci ha dato e ci dà e vivere questa nostra capacità di spendere la nostra professionalità a livello europeo come davvero qualcosa di uno sguardo certo l'Italia è un bel paese si vuole tutti vivere in Italia però è anche importante secondo me capire che quando si investe sulla propria istruzione si compete su un mercato che non è più un mercato nazionale e non deve necessariamente essere nella mia opinione e fissarmi un attimo sull'Europa Sì sì prego una breve riflessione su quello che ha appena detto Francesca in realtà quelle riforme le fa il governo quindi la riforma dell'università la doveva fare il governo che c'è stato i governi precedenti infatti vediamo cosa fare gli accademici e quindi adesso vedere se con questo governo semmai quale che sia esatto quale che sia fare la riforma quanta attenzione c'è stato sul mondo accademico da tutti i punti di vista dallo studente matricola all'ultimo al grado più alto degli accademici io sinceramente non l'ho visto nei governi precedenti che sembravano partire con una buona predisposizione verso l'accademia la verità è che si investe pochissimo nella ricerca sia pubblica che privata una piccola che sono nata a Erasmus e alla veneranda età che porto dietro sono ancora qui con una scuola per Erasmus in questo scambio non ci trovo nulla di negativo nel migrare l'ho fatto per motivi per lavoro ma è sempre stata una scelta non è stata un'imposizione il brain exchange lo scambio dei cervelli va bene la fuga dei cervelli no va bene che i nostri ragazzi siano mobili verso l'estero non è più estero se viene europea da quello per quello che mi riguarda non è estero l'estero comincia magari a Pittsburgh o altrove però questo significa che se i giovani sono messi in condizioni di andare fuori e dovremmo mettere i giovani che vengono da altri paesi dell'unione europea o da altri paesi di venire ma chi viene da noi a quali condizioni a parte pizza sole mandolino grazie Raffaella ho una domanda qui di Gemma che vorrebbe chiedere secondo voi appunto qual è il futuro dell'Italia nell'Europa se i partiti vittoriosi non sembrano poi così europeisti i partiti vittoriosi sono la Lega e il Movimento 5 Stelle e quindi questa domanda dice c'è un po' di incertezza qui quale sarà l'effetto sui rapporti dell'Italia con l'Europa Aide vuoi dire qualcosa? Sì mi riallaccio a due cose che sono state mi permettete anche se discutiamo di un'università ci appassiona e ci porterebbe a discutere forse per molto più tempo però vorrei aggiungere due cose importanti perché sono legati ai processi di cambiamento della società italiana io credo che l'università sia il luogo più impermeabile ai cambiamenti lo sappiamo tutti come è strutturata l'università italiana i meccanismi di cooptazione il non riconoscimento se non sulla base nonostante i tentativi della valutazione della meritocrazia però noi in questi ultimi dieci anni abbiamo subito delle trasformazioni che hanno portato l'università ad avere sempre meno soldi a reclutare sempre meno persone e le poche persone che vengono reclutate sono dei precari e a subire un processo di burocratizzazione interna spaventoso e a non avere fondi per la ricerca vi ricordo che negli ultimi dieci anni abbiamo avuto due call per i fondi nazionali di ricerca e in corso diciamo in questo momento sta per chiudersi la seconda call e l'Italia rispetto agli altri paesi europei è il paese che investe meno in ricerca e innovazione quindi il processo di blocco sociale della società è sostanzialmente legato a quello che non accade dentro l'università e l'altro condivido pienamente quello che diceva Francesca prima c'è un processo proprio di formazione di quella che diventa la classe poi dirigente del paese cioè i nostri studenti sono degli studenti passivi sono come dei contenitori vuoti stimolarli a fare domande anche su problemi di autorità è difficilissimo io ieri forzavo i miei studenti a leggere il titolo di Repubblica e il titolo di Libero per vedere le differenze fra i due giornali e capire perché quei due giornali titolavano facevano i loro titoli in quel modo ma veramente li ho dovuti forzare a interpretare il titolo del giornale era un tentativo per spingerli a riflettere su quello che ci sta accadendo ora questo è molto preoccupante perché sono alla fine i cittadini meno informati cioè noi dovremmo formarli a essere informati a essere dei cittadini delle teste pensanti che fanno delle scelte consapevoli e di fatto non lo sono a ragione Francesca quando dice il loro atteggiamento è lo stesso atteggiamento che hanno nei confronti del mercato del lavoro quindi il tentativo quale è il massimo tentativo che possono fare andare a Londra perché fare il camerino a Londra è più figo che fare il disoccupato a casa è un po' questo però è disarmante pensare che noi stiamo investendo nella formazione di persone che poi andranno all'estero a fare i camerieri e questo è poi alla fine estrettamente legato a quello che accade anche politicamente al processo della disaffezione politica tutti si aspettavano e ha ragione Marco su questo una grande disaffezione a queste elezioni in realtà con grande sorpresa gli italiani sono andati a votare però sono andati a votare facendo delle scelte in cui ti dicono non ci sto più con le cose che tu hai fatto prima quindi il PD nell'arco di tre anni ha perso il 20% dei voti che è una quota enorme se ci pensate è veramente una quota enorme e una parte di quell'elettorato non ha votato 5 stelle oppure ha votato scheda bianca per segnalare a quel partito che c'è un problema di cambiamento di cambiamento interno e il processo di cambiamento investe tutti e anche a scala europea io credo che investirà 5 stelle e investirà la lega di Saldini perché gioco forza se loro vorranno governare dovranno moderare il loro linguaggio dovranno moderare i loro contenuti tutto il velleitarismo anti-europeista verrà sicuramente mitigato da una sana real politica inevitabilmente questo poi avrà ovviamente delle conseguenze politiche con il loro elettorato però di fatto cominceranno a moderare i toni e i contenuti che meritano altri di voi Marco totalmente d'accordo su questo punto su quest'ultimo punto in particolare e sul punto toccato sull'università che si richiama a quello che diceva Francesca all'inizio allora sull'Europa temo che ovviamente sì siano state i richiami a voler combattere questo nemico non ben identificato quello che ha salvato Salvini e ha salvato il 5 Stelle in queste votazioni in realtà insomma l'Europa è stata usata come capo espiatorio ma nessuno dei due partiti degli schieramenti anzi io credo che entrambi abbiano chiara consapevolezza del fatto che le battaglie che hanno dichiarato di fare non riusciranno a farle e ammesso che le possano fare temo che ne riusciranno sconfitti quasi certamente insomma quindi da questo punto di vista non voglio essere ottimista sempre comunque a tutti i costi però per fortuna insomma ci sta questa ancora e forte come dire salvataggio dell'Europa che fa sì che molte di queste velleità si stemperino naturalmente sul punto dell'università che dire certamente sì sono d'accordo l'università negli ultimi dieci anni ha perduto qualcosa come 12.000 docenti quasi un quinto in Italia questo insomma nel bene o nel male che si accoglia favorevolmente la riforma della Germini piuttosto o negativamente ha dato uno scossone fortissimo a questa istituzione che era un po' paludata non c'è dubbio insomma era un po' baronale lo è forse ancora però secondo me molto meno molto meno di quello che era l'università quando io ero studente per intenderci cioè 30 anni fa ormai quasi 30 anni fa sono totalmente d'accordo sul fatto che un paese come il nostro che ha pochissime risorse investe pochissimo pochissimo in ricerca e sviluppo non si può permettere di mandare i suoi laureati non solo i migliori ma in generale i suoi laureati a destra cioè questa fuga di cervelli non è ammissibile però anche qui perdonatemi se faccio l'ottimista sempre in tutte le salse sarebbe stato molto meglio molto peggio ancora peggio se noi non avessimo avuto nessuna capacità di mandare i nostri laureati a destra per costoro non ci sarebbe stata né la chance di interno né la chance di estero qua almeno abbiamo capito che se questo sistema funzionasse in un modello più ampio in una scala europea senza frammentazioni di paesi tutto sommato questo modello universitario per quanto gli universitari italiani producono e per quello che i migliori se vogliamo comunque le corti brillanti dei laureati italiani riescono a fare all'estero tutto sommato è un segnale sufficientemente positivo di un'istituzione che seppure ancora vecchia ancora baronale ancora da svecchiare produce un minimo di efficienza il problema vero sta nel fatto che noi in questo paese non riusciamo ad assorbire i migliori laureati e questo sarebbe la vera forza della quale potrebbe beneficiare l'Italia da questo punto di vista i politici fanno ben poco perché lo sapete meglio di me le istituzioni locali le municipalizzate le aziende parastatali tutto il mondo del pubblico tutto che è l'80% dell'occupazione in questo paese non è gestito dai 945 senatori e deputati che noi abbiamo eletto ma è deciso da una tecnostruttura intermedia che fa le leggi che fa i regolamenti e che gestisce la operatività spicciola se vogliamo ma anche non solo spicciola anche importante del nostro paese quindi io farei più una riflessione su questo piuttosto che come dire lanciarmi a spada tratta contro queste 900 persone che sono delle 900 che sono un gruppo di persone che hanno quasi più un valore segnaletico che hanno benissimo abbiamo ancora un po' di tempo ragazzi qualche domanda o se volete che vi aiuti a formularla o un altro sì potrei chiedere un'altra cosa ovviamente il PD è caduto mortissimo quindi voi avete dei pensieri per quanto riguarda come potrebbe rialzarsi da questo sconfitto il PD? la domanda da 100.000 dollari come è la forma sono tutte per Aiden sono tutte per Aiden certo le diamo che facili basta aspettare la prossima sessione basta aspettare la prossima sessione del 5 Stelle del 5 Stelle e dei di Salvini perché se avete visto chi ha votato a questi due partiti in realtà hanno votato questi due partiti tutti coloro che 20 anni fa seguivano la parola il lavoro e votavano a sinistra quindi aspettiamo le prossime sessioni di questi due partiti per vedere un ricostituito partito di sinistra in Italia forse non basta io mi auguro che accada quello che il segretario infettore Martina ha dichiarato in questi giorni giusto ieri in un'intervista in una lunga intervista l'altro giorno scusatemi in una lunga intervista alla nostra giornalista direi tra i tre luce annunziata in cui ha dichiarato che stanno iniziando un percorso interno di incontri territoriali con i loro con i loro sedi con i loro militanti quei pochi che sono rimasti perché vogliono avviare un percorso di ricostituzione che parta dai territori perché si sono resi conto che i territori con i territori non avevano più nessun contatto e che fate una politica centralizzata e che quindi è necessario per ricostituire il partito ricominciare un processo di coinvolgimento della base quindi io mi auguro che effettivamente questo percorso avvenga perché probabilmente è l'unica modalità di ricostituire e di capire che cosa è accaduto nei territori è vero che non ci voleva una sera magica a capire cosa stava succedendo se avessero voluto farlo probabilmente hanno anche dei pessimi diciamo in generale il PD sbaglia sempre nelle sue campagne elettorali hanno sempre dei cattivi consiglieri politici dei pessimi spin doctor che non danno diciamo le indicazioni corrette non apprendono neanche da quello che accade da quello che lo sentire il contatto non dicevo parlare di contatto con la base che è però difficile cioè da una parte potrebbe essere molto più facile nel senso che abbiamo l'internet eccetera ma quello non sostituisce quelle che erano una volta vecchi partiti con tutto il male che hanno fatto magari però i vecchi partiti il contatto con la base ce l'avevano c'erano cellule c'erano posti fisici in cui la gente si incontrava per discutere poi magari quelle discussioni o quei voti dati dalla base non venivano rispettati che so io ma c'era un contatto proprio c'era una conversazione come stiamo conducendo oggi che non esiste più non esiste più no? c'è anche del mutualismo per esempio questo non è per tornare a un argomento sul quale Marco ha molto esistito non è solo l'Italia voglio dire è una situazione mondiale direi senz'altro anche negli altri paesi europei succede ma anche qui in America un famoso storico che mi pare sia il padre della PNAM che è qui nel dipartimento di storia ha scritto un libro molto interessante che ha intitolato Bowling Alone no? andare a giocare a bowling ma da solo no? cioè non c'è più quel senso di che cosa faccio questa sera vado al circolo tale dei tali a incontrarmi con amici con conoscenti per parlare per questo forse stava una volta alla base della politica e del vado a votare per questo partito perché sono convinta di questa piattaforma di questa agenda che hanno di questa è tutto molto più opaco vago confuso forse su questo possiamo questo è il nostro ultimo punto la nostra ultima discussione sono d'accordo senz'altro è così il problema è un problema anche culturale nel senso che i giovani io non sono molto lontana da essere giovane ma non sono più giovane però io ricordo di esperienze di studentesse è stata di autogestioni di volontà di partecipazione anche diciamo nel piccolo che era vicino a noi quindi l'organizzazione magari un servizio mese scuola qualcosa di piccolo ecco non so quanto questo ci sia ancora e io credo che coltivando questa volontà di investire sulle proprie idee questa volontà anche di rinnovare di modificare e migliorare la società sia cruciale per far sì che i cittadini davvero si riappassioni rispetto alla politica e credo che questo diciamo io ho due bambine piccole sia compito anche nostro nel nostro diciamo dimensione individuale quello di cercare di mettere dei contenuti che poi quelli che sono adesso bambini o giovani potranno in qualche modo decidere di perseguire e di amplificare volendo questo secondo me è veramente un problema culturale non lo vedo spaventare no 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 assolutamente cosa ne pensate Aide no no condivido quello che dice Francesca però penso che quando il PD pensa diciamo a riattivare un processo di ricostruzione del tessuto politico con i territori non pensi soltanto alle forme tradizionali dell'organizzazione politica ma esperienze importanti fatte in Italia penso per esempio all'esperienza fatta in Puglia da da Selle Nicchi Vendola le fabbriche delle idee cioè dei processi partecipativi che vedano davvero i cittadini al centro di una progettazione nuova di tutti i politici che soltanto in questo modo si possono ricostruire dei legami importanti perché i cittadini sanno cosa vogliono hanno anche delle idee molto innovative hanno bisogno di qualcuno che li metta insieme che li guidi nel senso che li crei le condizioni per poter prendere delle decisioni comuni ci sono molti più idee l'Italia è molto più innovativa nei territori di quanto noi non pensiamo tra sicuro questo non è meo c'è molta voglia di fare c'è anche molta voglia di fare credo che questo sia una delle leve sulla quale bisogna bisogna giocare molto prego Marco e Raffaella Sì Raffaella Raffaella vai vai no prego Marco siamo su di te adesso ah ok no sono totalmente d'accordo c'è molta più voglia di fare di quella che fa l'esterno e tanto più si va nei territori piccoli la provincia se vogliamo le piccole realtà le città con 10.000 o 20.000 abitanti tanto più ci si rende conto che questo è un paese veramente molto vivace e molto vitale molto diverso da quello che appare se si guarda soltanto Roma e Milano o se vogliamo o le principali città del paese sul PD sull'esito del PD io insomma provo ad essere un po' meno un po' più smaliziato se vogliamo se me lo permettete insomma cioè secondo me c'è proprio un problema di base è vero che Martina dice torniamo alla base ma l'impressione che ho io è che la base che cerca lui non esista proprio più e quindi il fatto che abbiano perduto qualche milione di voti non sia semplicemente perché il 60% dei votanti hanno preso una sbornea prima di andare a votare cioè è stata l'ubriacatura di voler votare sempre e comunque in disaccordo con l'establishment ma sia proprio legato al fatto che questa base manca perché questo paese sta cambiando realmente quella parte di popolazione che era interpretata dal PD di dieci anni fa oggi non esiste più o esiste e ha cambiato casacca definitivamente quindi temo che questa sia una partita perduta la mia battuta iniziale aspettiamo a che le fronde e le frange di Cinque Stelle e di Salvini si stacchino era una battuta ma in realtà ha questo come concetto cioè una parte di popolazione si è definitivamente staccata da quel format da quel modello e temo che sarà un lavoro molto faticoso non invidio il PD anche perché anche perché chiudo veramente telegraficamente su questo il PD è quello che ha i tentacoli informativi migliori in questo paese che ha sviluppato in decenni di capacità di gestire la rappresentanza anche a livello locale molto molto territorialmente molto disaggregato quindi se fa queste se ha questi risultati non è io temo non sia un errore strategico o un errore di interpretazione e analisi dei dati ma sia una reale caduta nella base di votanti di questo di questo partito Raffaella ti raffaella ti l'ultimo commento allora sposo la scia ha dei commenti ottimistici dicendo semplicemente anche rispondendo alla domanda di prima su quale sarà poi l'effettiva attitudine dei partiti che sono usciti vittoriosi in realtà l'Europa tanto criticata l'Unione Europea tanto criticata ha comunque sempre un forte appeal basta entrare in qualche stanza dei bottoni lì tra Roma e il resto per venire subito catturati dal fascino di questo originalissimo immenso esperimento sociale umano prima di tutto prima che ancora politico economico che è l'Europa questa per me è una nota di speranza nel senso che sì è vero stiamo attraversando una fase di cambiamento non solo economico politico spero anche culturale dove per cambiamento culturale non intendo il distacco dalla nostra cultura ma intendo una trasformazione di quello che è il funzionamento della nostra società di arrivare a un'effettiva parità che in Italia manca ed è trasversalissima non conosce colore di partito molto trasversale un'effettiva parità nei ruoli di genere nelle posizioni sia apicali che di base l'Unione Europea è partita 60 anni fa con una parità di trattamento tra uomini e donne sono passati 60 anni non è stata raggiunta a livello europeo ma l'Italia è ben lungi da essere e per parità intendo anche non una parità che appiattisca non una parità di tutti che non tenga conto del merito anzi ma una parità delle opportunità di accesso al fare impresa al mondo del lavoro alla partecipazione politica e in questo l'Unione Europea ci fa un po' da garante quindi diciamo bene bene allora scusa ti ho rotto perché abbiamo passato l'una e mezza vi ringrazio moltissimo grazie a voi credo un incontro molto positivo ha fatto piacere a tutti noi rivedervi riavervi qua a Pittsburgh virtualmente per un pochino e ringrazio anche il nostro pubblico i partecipanti grazie a tutti alla prossima grazie a voi speriamo presto grazie per l'invito grazie ciao grazie a tutti